Ciao a tutti, hai dimenticato la password della TV? In questo video ti mostriamo come reimpostare la password della TV, con WebOS 22. Se visualizzi questa schermata, stai tentando di utilizzare una funzione bloccata dalla funzione di sicurezza della TV. Per accedere alle impostazioni di sicurezza, premi il pulsante Impostazioni sul telecomando. Vai a Tutte le impostazioni. Generale Sistema Sicurezza Qui puoi abilitare o disabilitare la funzione Safety. Puoi impostare un blocco su specifiche funzioni della TV. O modificare la password corrente. Se provi a modificare qualcosa in questo menu, devi prima inserire la password corrente. Se hai dimenticato la password attuale, è possibile ripristinare la password a quella predefinita di fabbrica. Per fare questo, prima prendi il tuo telecomando e utilizza i pulsanti freccia per evidenziare una qualsiasi delle opzioni in questo menu. Non premere il pulsante OK. Successivamente devi utilizzare i pulsanti, su e giù, del programma. Premi, su, su, giù, su. Qui devi inserire la password principale, che è 0313. Ora la password è stata rimpostata sulla password predefinita di fabbrica. Se ora vedi questa schermata, inserisci la password predefinita. La password predefinita è 0000. Tranne se la posizione della TV è impostata su Francia, Norvegia o Belgio. Quindi la password predefinita è 1, 2, 3, 4. Se lo vuoi, ora puoi utilizzare la password predefinita per disattivare la funzione di sicurezza. Oppure puoi cambiare la password. Per prima cosa, inserisci la password predefinita. Quindi ora, puoi inserire una nuova password. Ora la password è stata cambiata. In questo modo puoi reimpostare la password della tua TV con WebOS 22. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.